Non sarà un fenomeno Vlaovic, però Vlaovic ieri ha toccato 9 palloni, la Sampdoria mi sembrava il Barcellona. Primo passo falso della Juve, ma te lo devi aspettare perché l'anno scoglio sono già più di un anno che continuo a dire che la Juve non fa 3 passaggi. La squadra di Allegri è forte, non è forte, è fortissima, si deve giocare lo scudetto fino all'ultimo però facendo un calcio di un certo tipo. Ieri io non posso immaginare, non sarà un fenomeno Vlaovic, però Vlaovic ieri ha toccato 9 palloni, la Sampdoria mi sembrava il Barcellona e la Juve veramente non riusciva a fare 3 passaggi. E si continua a dire cosa? Gli attenuanti che manca Pogba, ieri mancava Di Maria, mancava Chiesa, mille giocatori che non c'erano. Sì, ma la Juve è sempre molto più forte e deve vincere due partite, giocando in un certo modo. La Juve non si può guardare, ma l'anno scorso era un certo tipo, quest'anno è riniziata alla stessa maniera. Il 3-0 ha eliminato un po' di problematiche, però i primi 20 minuti erano sceni come ieri la partita che è stata scena. E ieri la Sampdoria ha fatto una grande partita e meritava di vincere. Ovviamente Allegri continua con questo giochino qua e bisogna giocare a calcio e bisogna fare questo. Per giocare a calcio devi dare due o tre triche, altrimenti vanno in campo alla Carlona, come sempre.